Il CIPA, Centro Italiano di Psicologia Analitica, Istituto Meridionale, ha organizzato nei giorni scorsi un convegno sulla pace tra l'individuale e il collettivo. Siamo oggi con il professore Larosa, medico-umanista e analista junghiano, per approfondire questo tema. Professore, cosa si intende per pace? Intanto un ringraziamento perché mi avete pensato e quindi ricevo l'onore di potervi ospitare. È difficile rispondere a questa domanda. Il CIPA subito risponde che la pace è un'istanza interiore, però è pur vero che in ognuno di noi ci sono anche delle quote irrisolte, che sono istintuali, che sono le nostre parti aggressive, che certamente mandano in scacco questa necessità, questo afflato, questo progetto esistenziale il più bello, il più utile, il più fecondo possibile. Rispetto ad Ares, che ci appartiene, Ares è il più feroce degli dei, è il grande distruttore. Accanto alla funzione Ares c'è anche la funzione dell'amore, che è Afrodite. Il mito dice che l'unica volta in cui Ares depone le sue armi è quando giace con Afrodite. Serve poco negare l'una o negare l'altra parte. La cosa più utile invece è fare integrare queste parti in chiave simbolica, tanto da poter recuperare quella immagine che non è più Ares, ma è Quirino, che è un dio romano, che è il dio della cooperazione, che è il dio che integra, il dio che fa sì che comunque ci possa essere anche una soluzione alla distruttività. Professore, lei ha parlato di integrazione. Dove finisce l'aggressività, che è anche un'esperienza positiva per l'essere romano, e comincia invece la violenza? Questa è un'epoca in cui abbiamo perso la dimensione sacrale, perché oggi quello che va forte e va di moda, ed è ai noi, insomma il tema dominante è un'informazione, massiccia, onnivora. Già la funzione, come dire, erudita, che comunque può essere anche discutibile, è venuta meno. La funzione culturale è quasi quasi azzerata, la funzione sapiensale totalmente negata. Quindi noi viviamo in un'epoca in cui la possibilità di andare a fondo e di connotarci negli aspetti più profondi che noi, diciamo, per le nostre equazioni personali, che sono gli aspetti etici, il rispetto per l'altro, la dimensione della pace come necessità in virtù dell'altro, ma soprattutto per quanto ci riguarda. La presunzione di buona fede è quella che conta nella vita. Se già nella mia mente c'è la possibilità che l'altro mi offre, la possibilità che io rivisiti delle mie posizioni e mi faccia, come dire, abbia la libertà di farmi inondare ciò che mi può fare arrivare, io rischio di stare molto meglio. L'angoscia è che l'altro, l'altro da noi, il migrante, possa essere una dimensione minacciosa. Proiettiamo tutte le nostre parti non risolte sul migrante che diventa l'avversario, l'uomo da non condividere. Se noi imparassimo a considerare che l'altro da noi è la risorsa per eccellenza, beh, quella sarebbe proprio un antidoto alla guerra, un antidoto all'inquietudine. Si può parlare quindi di contagio psichico? Benvenuto sì al contagio psichico. Significa la possibilità di trovare le più belle opportunità per integrare le nostre parti. Le mie parti più belle, le mie parti che ho coltivato maggiormente, sono stati i patrimoni, che oggi io custodisco gelosamente, che mi sono stati dati dagli ultimi. Mi sono lasciato contagiare e io a mia volta, in buona fede, ho potuto contagiare in questo continuo scambio. Professore, partendo da una citazione di un artista a noi caro, si può sperare che il mondo torni a quote più normali e che strumenti ha l'uomo per attuare questa possibilità salvifica? Nel momento in cui noi ci intenzioniamo e funzioniamo in virtù dell'altro e immaginiamo che noi siamo microcosmi in un macrocosmo. Immaginiamo che noi possiamo essere forieri di tutte le parti più belle che possiamo offrire, nel nostro piccolo. Allora si può pensare a quello che diceva Rollo-Mai, che basta pure un battito di farfalla a Sidney per creare un terremoto a New York. Quindi basterebbe che noi faccia la propria parte. Dovremmo imparare a guardare alla meta come un progetto straordinario, recuperando però la possibilità che gli strumenti debbano essere i più sani e più etici possibili per arrivare a quel telus. Grazie a tutti.